Amici e guardoni degli scacchi ben ritrovati! Ieri sera, cioè il primo dell'anno, capodanno, ho partecipato molto volentieri a un torneo lampo a 5 minuti più 3 secondi di incremento per mossa organizzato dal canale Scacchi e Giochi Strategici e devo dirvi che mi sono molto divertito perché era un pezzo che non partecipavo più a un torneo neanche online. Qui vedete il podio si è giudicato il gradino più alto del podio questo Giswag, una macchina, una macchina non ne ha persa una, vedete che ha fatto filotto secondo classificato il vescovo cattivo che sarebbe Carlo il magnifico gestore del canale di Scacchi e Giochi Strategici e poi Firelink al terzo gradino del podio io mi sono piazzato quarto e mi ha fatto molto piacere con 4,5 su 8 ne ho perse 3 e ne ho pareggiata una e poi giù giù a scendere gli altri fino alla decima posizione vorrei farvi vedere rapidissimamente le 8 partite che ho giocato se sono capaci a districarmi dentro l'icesma credo di sì dunque io schiaccio no, no adesso un momento adesso un momento che ci provo ecco forse ci siamo abbiate pazienza sapete che sono un po' maldestro la prima partita l'ho giocata contro tale Ballord io qui sull'ices ho dunque 1.800 di punteggio Blitz credo però c'era il punto di domanda ieri probabilmente deve ancora aggiustare bene insomma il mio avversario ha sui 1.200 quindi partivo da favorito allora la partita è andata così io ho il nero no, io ho il bianco io che cos'ho io ho esatto io ho il nero quindi giriamo qua la scacchiera io ho il nero e siamo in una francese variante Vinaver quindi quella con l'alfiere fuori che attacca il cavallo inchioda il cavallo sul re si prepara a prendere il mio avversario cambia io riprendo adesso qui siamo in una variante di cambio della francese che è terrificante sapete che io la detesto la variante di cambio della francese ma c'è un ma che adesso vi faccio vedere andiamo avanti non metto il motore analizziamo un po' così alla garibaldina cavalli fuori alfiere fuori io arrocco ecco lui fa A3 per scacciarmi l'alfiere a questo punto io cambio e lui deve riprendere col pedone siamo dentro la variante di cambio della francese ripeto io non ho più la coppia degli alfieri ma lui ha questa debolezza cronica l'impedonatura qui in C3 cercherò di giocare contro questa impedonatura diciamo se si deve entrare nella variante di cambio mi sembra che sia migliore per il nero questa che non la variante di cambio classica C6 scusate rocco corto io tiro fuori l'alfiere un po' cattivello della francese attacco il cavallo torre sulla colonna sviluppo i pezzi leggeri lui viene dentro col cavallo il cavallo è piuttosto forte cambio l'alfiere perché quell'alfiere lì fa un po' schifo è il mio alfiere cattivo perché vedete il grosso della mia struttura pedonale è sulle case del colore dell'alfiere sulle case chiare riprende io faccio adesso donna a 5 attacco il pedone che ho indebolito col cambio precedente dell'alfiere sul cavallo alfiere di 2 difende il pedone sviluppa un pezzo e eventualmente prepara anche una scopertina io cambio questo forte cavallo centrale lui riprende e io metto il mio cavallo in E4 questa mossa mi è piaciuta molto perché attacco l'alfiere e attacco due volte il pedone lui sposta io cambio lui prende adesso abbiamo pezzi pesanti due torri e la donna e io giocherò ripeto su questa sua debolezza cronica torre sulla colonna lui mette la torre lì io prendo un pedoncino questa se l'era persa vedete il fatto di avere questa impedonatura ha indebolito anche il pedone in A io prendo un pedoncino lui fa il buco per evitare il matto del corridoio faccio il buchino anch'io due torri sulla colonna aperta torno indietro con la donna non mi andava di cambiare presa presa poi restava lui in controllo della colonna allora io torno indietro con la donna tanto qua ho un pedone libero che posso spingere difendo l'ultima traversa gli contendo la colonna mi sembra che qui sto già molto molto bene vediamo il motore quanto mi dà ecco ecco vedete qui si giochicchia ancora un po' io cambio lui si fa il pedone il pedone per spingerlo adesso io spingo anch'io lui spinge cambio cambio e ho trovato questa bella mossa donna B4 propongo il cambio delle donne e attacco la torre anche lui sposta la donna questa mossa non l'ho tanto capita a parte il fatto che non ha visto la torre ma voglio dire tanto vale cambiare qui e impedonarmi perché così io potrei cambiare al di là del fatto che la torre è impresa naturalmente comunque io prendo lui si sposta vabbè adesso qualche mossa ancora e qua ha abbandonato comincio il torneo con un punto e mi fa molto piacere andiamo a vedere la seconda round 2 del torneo mi trovo appaiato al temibile Giswag quello che avete visto ha fatto filotto ha vinto tutto ora qui ho i pezzi bianchi gioco E4 e lui gioca D6 la Pirzi io già mi faccio la popò addosso D4 cavallo F6 cavallo C3 difende il pedone G6 prepara il fianchetto io gioco l'impianto proprio classico classico ero un po' indeciso volevo provare l'attacco austriaco magari con F4 o anche l'attacco cinese che ha fatto vedere sempre oh scusate cosa ho schiacciato qui no no togli via sta roba l'attacco cinese che ha fatto vedere sempre il Carlo di scacchi e giochi strategici che consta di alfiere E2 e poi G4 G5 molto molto interessante però ho detto questo qui è fortissimo è un trita ossa non vorrei andare in complicazioni eccessive quindi cavallo F3 G7 alfiere D3 tiene il pedoncino prepara la rocco corto lui fa il cavallo in C6 è una delle varianti della Pirzi si può fare qui gioco H3 che va sempre bene tiene questa casa per evitare che ci si infili qualcuno come i ladri dalla finestra rocco corto rocco corto lui fa E5 io sviluppo l'ultimo pezzo leggero qui penso che siamo in parità si si gioco pari gioco pari lui prende io prendo di cavallo se avete visto le partite del mio campionato sociale lì avevo fatto l'errore di prendere con l'alfiere e farmi cambiare l'alfiere invece così ho preso col cavallo se lui riprende io prendo gli piazzo questo bello alfiere qui in faccia al suo sviluppo il pezzo leggero che gli manca io preparo la batteria di sfianchettamento A6 per preparare B5 io gioco A4 torre sulla colonna centrale io prendo il cavallo perché questo cavallo qua mi rompeva le scatole e questo cavallo qui la questione era che se andavo a sfianchettare subito questo cavallo restava sospeso potevo fare questa forse però mi sembrava un po' remissiva proviamo a cambiare però questa è stata forse una mossa brutta vediamo cosa dice il computer cavallo qua ho un buon vantaggio dopo la presa eh no perdo il vantaggio dovevo fare cavallo F3 era più giusta perché vedrete che con l'alfiere campo chiaro che nella Pirzi di solito non è che fa mirabilia è stata una spina nel fianco io qua ho preso lui ha preso sfianchettamento torre sulla colonna E mette la donna in E5 F4 lui mi dà uno scacco sposto il re altra torre su colonna aperta io faccio F5 lui fa B5 presa 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 sulla rocco presa adesso ho stato qua un po' a considerare a considerare a considerare ho fatto torre A5 per attaccare questo pedone qui una volta di più però qui eh infatti vedete qui vado a finire di mettermi in una posizione e vado a finire che mi metto in una posizione molto scomoda scordino i pezzi e viene fuori un pasticcio toglie la donna prendo un pedone lui prende un pedone centrale se io prendo tolgo un difensore dal cavallo presa presa avrebbe potuto prendere anche il cavallo e lo stesso ma questo forse è migliore perché prepara anche un attacco di scoperto sulla mia torre scacco lui si sposta attacco l'alfiere io speravo in donna per alfiere per torre torre stavo benissimo ma questa è una bellissima bellissima mossa di 5 domina completamente il centro e qui c'è da stare attenti perché c'è questa presa se io tolgo la donna naturalmente c'è questo motivo tattico presa presa e casca la torre io qui non sapevo più che i pesci prendere lui mi attacca in modo furibondo metto il cavallo lì presa e qua sbaglio perché ero anche un po' sotto di tempo vedete 56 secondi contro i 3 minuti suoi e qui facilmente perdo una torre e ho abbandonato mi è dispiaciuto però era un giocatore fortissimo è un giocatore fortissimo qui se facevo invece di vedete quell'alfiere campo chiaro come è rimasto forte se invece di fare dove stiamo qua se invece di fare cavallo per c6 io venivo qui stavo stavo meglio il gioco era molto più tranquillo ma stavo meglio va bene andiamo a vedere la partita 3 quindi siamo una vinta e una persa la terza partita l'ho giocata contro questo Lee Cooper serbo vi faccio vedere com'è andata io qui ho il nero quindi giriamo il biroccio eccolo allora e4 e6 d4 a6 ho giocato allora non volevo entrare nella francese sempre per la solita storia evitare la francese di cambio ho giocato la difesa San Giorgio che consta di a6 b5 alfiere b7 poi c5 e poi ce la si gioca insomma è una difesa che ha una sua fama sapete tutti ve l'ho già detto la giocata Anthony Meister il 1980 contro il campione del mondo Anatoly Karpov vincendo Michael Basman un giocatore assurdo pazzesco ci ha scritto un libro sopra che sto leggendo e ha detto proviamo a vedere la difesa San Giorgio come gira in torneo cavallo f3 b5 l'alfiere in d3 che supporta il pedone alfiere b7 che attacca il pedone arrocco corto c5 se lui prende qui si riprende di alfiere c3 io ho sviluppato il cavallo in f6 ma questa non andava tanto bene secondo me vediamo un poco qua cosa dice più 0 e 9 no ma niente di che e 5 cavallo ok lui fa torre 1 io prendo per aprirmi magari la colonna perché qua poi c'è il problema che se lui spinge io vengo qui no non c'è nessun problema chissà no non così cosa sto schiacciando chissà che cavolo perché poi uno vede i fantasmi durante le partite meglio di prendere era sviluppare qua però poi lui poteva spingere presa presa e restava riscoperto non lo so comunque io ho preso così cavallo fuori cavallo fuori alfiere 7 lui spinge adesso io sono tornato indietro perché ma no scusate non sono tanto ancora pratico con la cosa di lices eccolo ha spinto dicevo io sono tornato indietro perché me la sono fatta nei pantaloni perché questa linea qua così così e così secondo me era un po' problematica perché la struttura fa schifo e l'alfiera è cieco vediamo cosa dà il computer infatti 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 la dà come pessima io ho giocato il cavallo indietro ah comunque il computer preferisce il cavallo di 5 lo stesso vedete che queste difese bisogna veramente conoscere la memoria perché uno poi cicca qualcosa e diventa un casino adesso qui lui prepara questo attacco qua anzi meglio ancora questo attacco qua viene giù sulla casa F7 io faccio H6 per togliere questa casa qui poi metto la donna lui mi attacca io provo a rompere un po' presa 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 adesso c'è il cavallo inchiodato sul re io ho preso lui ha preso così ecco poi qua ragazzi sono andato nel pallone adesso senza stare troppo a lambicarci c'è l'alfiere sospeso il cavallo ha attaccato tre volte e difeso solo due quindi qui ho preso questo ma ho perso quello e poi è andata tutto a ramengo nel giro di poco ho giocato ancora qualche mossa ma poi ho abbandonato eh così così ecco io ho abbandonato ecco non so signori la difesa San Giorgio è bella è interessante è sorprendente però ho sbagliato a giocarla non ho la conoscenza teorica per giocarla e qui si impone anche una riflessione cioè non so neanche come dire è interessante approcciare gli scacchi anche dal punto di vista della teoria delle aperture però se uno sceglie questo tipo di approccio le aperture deve conoscerle benissimo è finita lì ecco secondo me per come sono io che non ho nel tempo nelle energie neanche la voglia se devo dirla proprio tutta di andarmi a studiare le sottovarianti delle cose eccetera forse un approccio migliore è quello di scegliere le aperture delle aperture che vabbè conoscere le varianti principali e poi giocare a scacchi cioè affidare alla conoscenza mnemonica sì una parte dell'apertura ma insomma poi cercare di giocare a scacchi non giocare secondo un approccio teoretico da grande maestro perché io grande maestro non lo sono perciò mi do ecco come regola per il futuro anche se capitasse la francese entriamo in questa variante di cambio e la giochiamo giocando a scacchi ecco a volte non si può neanche pensare di forzare una posizione che è patta eccetera ho peccato di arroganza scegliendo questa apertura me ne rendo conto ho peccato di arroganza e mi è andata male insomma vediamo la prossima partita partita 4 con il bianco contro Ivano 1927 che aveva mi pareva 1200 di punteggio rapid quindi di punteggio lampo scusate quindi ero abbastanza fiducioso e4 c5 siciliana cavallo f3 e6 io gioco la siciliana chiusa così a4 per bloccare la spinta b5 cavallo c6 d3 blindo tutto d5 presa presa adesso io gioco g3 preparo il fianchetto lui sviluppa il cavallo fianchetto l'alfiere inchioda il cavallo arroco corto sviluppo dell'altro alfiere qui in posizione suppongo pari sostanzialmente pari scacco torna indietro qui gli ho fatto perdere un tempo con l'alfiere questa alfiere opla alfiere d6 non era tanto buona secondo me è migliore alfiere e7 proprio per parare lo scacco così ha perso un tempo interrogo l'alfiere lui prende io prendo e adesso c'è questo pedone debole che è attaccato da 3 pezzi miei e difeso soltanto da 2 suoi lui arrocca quindi io mi sbafo un pedone e poi quindi qua cominciamo ad essere in un finale coppia di alfieri un pedone di vantaggio per me colonna aperta adesso lui ha questa minaccia presa presa e cade l'alfiere perché è difeso solo dal cavallo quindi io potrei rimuovere il difensore lui giustamente toglie l'alfiere e contro minaccia qua io prendo il cavallo lo stesso ho detto prendo il cavallo perché ed è come in partita 1 mi piace giocare anche secondo questi concetti posizionali gli rompo la struttura pedonale e questi sono deboli per sempre ho fatto torre b1 per togliere la torre dalla diagonale difendere il pedone quindi lasciare libero l'alfiere di uscire e poi ho detto che sicuramente il mio piano sarà spingere in b3 fare un blocco così lui non può fare c4 e poi con tutta la calma del mondo vado su e faccio filotto qua b3 lui entra con la torre ma questo è un errore perché gioco alfiere a3 infilo torre e pedone lui decide di contraattaccare sulla torre ma questo è un errore perché prendo e l'alfiere difende la torre quindi lui riprende adesso resta con una qualità di svantaggio la struttura pedonale rotta però non è facilissimo diciamo il vantaggio è ampio suppongo vediamo quanto ci dà di vantaggio sarà un più ostia più 8 pensavo anche qualcosa di meno bisogna essere capaci a rompere questo cluster qui che può essere molto resistente specialmente poi se lui fa a5 blocca tutte le spinte pedonali c'è da dire che però adesso sto guardando se fa a5 poi io preparo questa manovra e l'alfiere poi intrappola quindi bisogna stare un po' attenti torre su perché la torre era sotto attacco mi è contraattacca vado su attacco il pedone viene su con re prendo il pedone blinda l'alfiere io faccio f4 per guadagnare spazio sul lato di re torre nella colonna aperta subito re f2 per controllare le case d'ingresso della torre h6 e adesso preparo la spinta c3 lui si sposta attacca la torre io allora mi sposto attacco la torre si sposta anche lui vengo su così raddoppio difende così minaccio questo genere di cose qui insomma attacco di scoperta sulla torre scacco attacca a sua volta la torre con il re vengo indietro attacco il pedone in a5 e qui il bianco ha il nero ha abbandonato perché qui adesso crolla tutto perché c'è questo sotto e questo sotto se lui prende io riprendo e poi ho il pedone passato e quindi questa si vince facilmente andiamo alla prossima partita 5 io sono contro un certo basc che ha 1.500 quindi comincia già ad essere insomma io ho il nero giriamo sempre il birocino eccolo qui d4 ho il primo che gioca d4 cavallo f6 c4 g6 alfiere f3 g7 difesa est indiana tutto normale cavallo c3 rocco corto e4 d6 qui siamo proprio nel standard assoluto cavallo bd7 lui gioca questa cavallo e2 non la conosco non l'ho mai vista probabilmente vuol venire di qua col cavallo ultra difende questo pedone ma non mi sembra buona questa qua vediamo un po' cosa dà il motore eh infatti 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 un pochino nero non mi mi sembra innaturale questo sviluppo io gioco e5 quindi tutto naturale e3 faccio a5 che mi piace sempre farla perché se lui poi spinge piazzo il mio cavallo in c5 e non viene neanche con le bombe faccio b6 mi piace anche questa per per bloccare anche i sacrifici di pedone bloccare tutto rocco corto cavallo c5 lui mette il cavallo in g3 h6 evito entrate strane qua alfiere c2 toglie l'alfiere dalla presa del cavallo adesso cavallo g4 attacco l'alfiere l'alfiere se ne va attacco il pedone con l'alfiere a6 attacco questo pedoncino lui spinge adesso vedete che io mi sono aperto la diagonale vedete che bello che bella questa è una partita proprio strategica strategico posizionale lui ha tutti i pedoni sulle case chiare questo alfiere fa schifo e se si apre qua la sua torre è sotto torno indietro con l'alfiere perché in a6 ha finito il suo lavoro qui sbatte quindi torna di qua perché nella est indiana l'alfiere in c8 serve per supportare l'avanzata pedonale sul lato di re avversario h3 scaccia il cavallo torno indietro donna c1 batteria sul punto h6 difendo cavallo h2 boh vengo indietro cavallo e8 per fare f5 f4 suo prendo e vedete un po' cosa c'è la scoperta era vedete c'è sotto il cavallo e la torre lui prende io devo dirvi la verità ho titubato un po' ho detto vabbè io prendo va bene però lui riprende di donna ha una qualità in meno ma controlla le case scure in modo formidabile perché ha l'alfiere delle case scure che io non ho più e la donna sulla lunga diagonale quindi strategicamente è una scelta molto pericolosa vediamo cosa consiglia di fare il computer vedete non dà alfiere per per a1 si la dama vedete come ultima scelta dà vantaggio ancora un po' al bianco io però ho detto va bene accetto la sfida vediamo un po' questa variante così pericolosa donna per io ho messo la donna qui per cambiare le donne e minacciare questo alfiere qua che naturalmente è difeso però non si sa mai nella vita cosa può succedere lui non cambia naturalmente io spingo e attacco l'alfiere si sposta scoperta sulla donna mi sposto anch'io e questa casa è bellissima perché questa casa c3 consente alla donna di attaccare l'alfiere in c2 l'alfiere in e3 e questo cavallo piazzato male 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 in g3 trova questa bella mossa cavallo g4 bella mossa relativamente per difendere l'alfiere no non è una bella mossa perché io ho preso ecco infatti ho preso vedete che è stato utile riportare l'alfiere in c8 io ho preso dunque spinge eh qua diventa complicata la situa attacco di scoperta i suoi elfieri sono forti sposto il re prende e io prendo con scacco adesso ho un pezzo in più un pezzo è una qualità in più giusto? dunque una qualità ce l'ho di sicuro due pezzi no 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 ho solo una qualità in più ho solo una qualità in più scusate un attimo che io mi sono un secondo perso dunque così così prendo un pezzo scacco sposto prende un pezzo prendo un pezzo scacco sposto no ok due pezzi leggeri due pezzi leggeri ah io non ho più una qualità in più ecco c'era l'inghippo ho una torre pulita in più ok prendo qui lui viene giù mi sposto e metto la donna in presa mi sono spostato ho visto no ho detto porca lui ci pensa un po' e fa cavallo h5 ho detto vabbè mi dà uno scacco intermedio poi mi prende la donna e posso abbandonare re h8 donna e due ma sono un disonesto avrei dovuto abbandonare ma va bene lo stesso cavallo g7 torre f6 presa presa di torre con scacco risposto il re c'è da stare attenti qua c'è da stare molto molto attenti questa donna qui però in g7 in d4 è favolosa perché tiene questa diagonale e tiene l'ingresso della donna sulla diagonale chiara quindi non può fare la batteria finché la donna sta qua lui non può fare la batteria quindi meno male che ho messo la donna in presa torre per h5 torre h8 cambiamo un paio di torri se mi riesce mi riesce presa presa un'altra torre in h8 difende tutto voglio cambiare le donne presa presa entriamo in un finale in cui ho una torre in più è un finale chiuso quindi c'è un pochino da lavorare ancora lui mette l'alfiere qua molto forte spingo il pedone metto tutti i pedoni su casa scura adesso questa spinta non serve a niente questa spinta non la può fare questa spinta perde un pedone quindi io sono blindato devo solo trovare il modo per rompere ci incischiamo un attimo mi faccio il pedone passato lui viene lì io vengo su con la torre su casa scura alfiere f5 vengo qua con la torre lui torna indietro attacco il pedoncino perché avevo in mente di fare torre per f5 sacrificio di qualità presa presa e adesso si va che bel sacrificio di qualità e qua ha abbandonato il mio avversario partita un po' brutta donna impresa però insomma via l'abbiamo siamo usciti dalle secche prossima oh sesto turno la partita che aspettavo veramente veramente con trepidazione contro il vescovo cattivo contro Carlo del canale scacchi e giochi strategici ero proprio contento di giocarmi questa partita avevo il bianco lui è un fantasista delle aperture ne fa ne conosce ne fa delle più diverse io ho giocato 1-4 lui ha giocato la difesa Nimzovic cavallo in c6 lui è clamorosamente preparato in apertura ho cercato di portarlo un po' fuori volevo fare d4 qua la mossa naturale naturalmente è d4 però ho detto buh facciamo alfiere a b5 è una specie di come il tromposchi alla rovescia qua lo chiama pseudo spanish variation io avevo l'idea di magari prendere e rompergli la struttura qualcosa del genere cavallo d4 torno indietro qua fa b5 molto forte torno indietro con l'alfiero in b3 e5 attacco il pedone centrale presa presa io sto bene io sto abbastanza bene ho la colonna aperta lui adesso difende il pedone qui saremo di sicuro il nero qua ha già equalizzato no vantaggio bianco tè guarda si ma sono quei vantaggi lui è solidissimo qui eh arroco corto l'alfiero in chioda il cavallo d3 cavallo f6 h3 interroga l'alfiero l'alfiero indietreggia qui dovevo prima di arroccare dovevo fare h3 perché quell'alfiero lì è proprio fastidioso qui prima di arroccare adesso h3 era buona comunque va bene lo stesso lui gioca a modo molto 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 solido vedete attacco il pedone lo difende e qui io non so che cosa caspita ho toccato con queste mani maledette che vorrei tagliarmele mi è venuto fuori cavallo per b5 carlo carlo non so stavo facendo le frecce probabilmente stavo paciugando così per vedere dove può andare il cavallo non so che cavolo stavo toccando carlo e ho preso e ho detto ma no la partita della vita no la partita della vita nel senso una partita che avevo proprio voglia di giocare bene più delle altre e niente ho perso un pezzo così mi è scivolato il topo ho fatto mouse slip come si dice ho detto vabbè giochiamo ancora allora dai tanto che siamo qui prende prendo mi apro la colonna scherzosamente provo ad attaccare prende prende lui difende da dio qua non c'è niente super difeso vado avanti e indietro 50 un po' con i pezzi raddoppio g6 attacco la torre la torre torna indietro e ho sì vabbè insomma dai ho detto proviamo a far così cambiamo gli alfieri e poi magari entro con la donna vediamo se esco a tirare su qualcosa però poi non ho visto che lui prende la casa togliamo ste frecce che non si capisce niente col cambio degli alfieri lui può piantare il cavallo qua in f4 che è un difensore e attaccante formidabile in questa posizione presa presa ci incischiamo un po' io minaccio vedete qua minaccia di matto ma lui vede tutto naturalmente difende torna indietro ma e qui ho abbandonato peccato carlo peccato mi è molto dispiaciuto mi è molto dispiaciuto perdere quel pezzo lì non so che cavolo ho toccato e vabbè pazienza prossima partita turno 7 io ero un po' abbacchiato mi è capitato stefan ray però ho detto vabbò 1400 magari io ho come avete visto 1700 1800 magari riesco a cavarmela fuori bene no però io qui ho il ho il nero ecco qua torniamo nella francese ho detto la san giorgio non la gioco più in mona eccola qua la francese di cambio il mio nemico naturale cavalli fuori scacco questa è una variante peggiorata perché qui perde un tempo il bianco in chiodo qua ho sbagliato ero confuso l'alfiere non va in e7 va qua va in d6 avevo ancora un po' le scorie della partita prima e la frustrazione della francese di cambio questa l'ho giocata male mi dispiace perché potevo giocarla finiva magari patta lo stesso però potevo giocarla un po' meglio h3 cambiamo i cavalli arrocco c3 tutto 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 come da copione così così torna indietro io attacco un po' lì lui viene di qua h3 h3 è sempre h6 cioè è sempre utile per evitare l'inchiodatura l'inchiodatura occupiamo la colonna rioccupo la colonna bruh ho messo il cavallo qui centralizzato così cambio di pezzi e qua adesso attacca lì io difendo e qua bagliamo la mazzurca per 52 mosse fino a che non accettava la patta non so perché forse bisognava arrivare alla trentesima mossa non lo so non dava la patta poi alla fine alla trentesima mossa ha dato la patta ecco patta bonk quindi sono a 3 punti e mezzo su 7 manca l'ultimo turno l'ottavo nell'ultimo turno ho i pezzi bianchi contro Mamba Nero sinistrissimo nome punteggio più o meno come il mio andiamo e4 e5 cavallo f3 cavallo g6 spagnola a me piace giocare la variante di cambio dalla spagnola ma lui non mi fa a6 non mi fa contento gioca cavallo g7 la difesa cozzio la bovinissima solidissima bovinissima difesa cozzio vabbè giochiamo la cozzio a rocco corto perché mette fuori questo che non dovrebbe esserci vabbè fai quello che vuoi d6 faccio c3 per fare la solita spinta alfiere d7 spinta in d4 cavallo g6 forse fa così perché l'avevo analizzata eh infatti cavallo g6 h3 per impedire come il solito qui alfiere e7 sviluppo torre 1 come si fa sempre nella spagnola e qua cavallo bd2 vado avanti col cavallo ma questo è una cappella perché a quanto pare c'è un tema nella difesa cozzio che è il seguente cavallo per d4 io cambio perché l'alfiere sotto attacco lui prende io prendo e lui prende quindi sono sotto di un pedone mannaggia alla morte senza tra l'altro sono sotto di un pedone ho una struttura pedonale che fa schifo ho un alfiere campo scuro che non serve a niente perché sbatte dappertutto lui ha i pedoni già pronti per venire ad attaccare sul lato di re ho detto qua marca proprio 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 male partita di grande sacrificio signori è stato come blindarsi nel bunker nella casa matta e sopportare i colpi delle bombe donna b3 attacco il pedone spinge scoprendo la difesa della donna sul pedone alfiere 3 tanto per metterlo da qualche parte b6 quei pedoni lì cominciano a venire avanti mi fa paura come il diavolo torre ad1 la torre raggi x sulla donna lui spinge c5 qui si crea un buco però io non ho modo di sfruttarlo perché per metterci il cavallo dovrei saltare da una di queste case scure e però sono tutte occupate questa è occupata dall'alfiere potrei togliere l'alfiere ma come si fa cioè ci vuole il giro dell'oca così 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 no decisamente no a4 per provare a oppormi alla espansione pericolosissima di pedoni di lato re ab8 sposto la donna che era raggi x la donna difende questo pedone quindi io adesso gioco anche b3 per rendere più solida questa struttura diciamo una prima allora apertura no l'apertura ha perso un pedone male 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 in questa apertura è finita qui siamo nella medio gioco primo momento del medio gioco il lato di donna devo riuscire a surgelarlo perché lui ha più pedoni quindi io devo surgelare tutto e lasciare questa roba debole qua f5 qui la situazione si è un po' calmata adesso andiamo al secondo momento del medio gioco l'attacco sul lato di re da parte sua io prendo per forza perché se spinge è finita presa presa di donna cincischio ragazzi cincischio qui la mia strategia è parare i colpi e cincischiare e star solido proprio il più possibile qui vabbè io non ho minacce perché se non posso entrare qui non posso entrare qui questo pedone non lo posso attaccare non ho minacce di nessun tipo devo difendere ed è importante sapere cosa fare cioè cosa devi fare nel famoso piano devo difendere punto cavallo h4 vabbè non gli piace ma adesso non stiamo qui a sindacare la rava e la fava cavallo d4 cosa minaccia di cambiare qui così così e così not good perché presa 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 giusto? giusto tolgo il cavallo lui dava come migliore cavallo per h4 ma a me non piaceva perché indebolivo il cavallo difende la rocco perché presa presa e poi lui era su una colonna f facciamola vedere se io avessi preso lui riprendeva e aveva la colonna f aperta sul punto f7 e l'alfiere quindi io dovevo ancora di più rendere passivo il gioco allora ho detto lasciamo un pezzo proviamo a lasciare un pezzo l'ho giocato qua donna qui minaccia matto no non minaccia matto perché è difeso dalla mia donna però comunque metto la torre in f8 per difendere la rocco torna indietro metto la torre lì questo alfiere qui e attenzione pur essendo un alfiere stupido fa un buon lavoro nel difendere il punto f7 è importantissimo e la mossa torre di e1 è molto importante no non è il punto f7 io ho detto f7 fino adesso ma f2 f1 non f8 è importante questa mossa perché se lui cambia io riprendo di torre e non rompo la struttura pedonale dell'arrocco h4 aumentano gli attacchi ritorno indietro col cavallo torno indietro con l'alfiere spingo ce l'avevo in mente mi premeva di fare c4 per bloccare di più queste spinte qua la torre va a torre in bd8 tolgo il re dalla colonna dove c'è la donna indietro col cavallo attacca la donna donna indietro il cavallo va di nuovo lì io ho detto va bene mi sembra che non abbia grandi prospettive di attacco sono riuscito a difendere bene adesso devo fare qualcosa io terzo momento del medio gioco magari così a tempo debito però a tempo debito questa mossa la dà come in accuratezza perché toglie una casa di ritirata al cavallo il cavallo può andare solo qui ma come vedremo qui ci dovrà andare re quindi questo cavallo sarà un po' nello stretto poi donna h5 donna h5 è una mossa lui la dà come accuratezza ma è dentro lo spirito della posizione perché lui ha visto che se faccio così cioè se faccio g4 questo pedone è indifeso e cade con scacco quindi devo andare su correre h2 e adesso attacca il cavallo che non ha case di fuga vedete che non può non può qui non mi piaceva tanto qui non può allora io ho fatto così g4 e qua io non ho capito più niente io non ho capito più assolutamente niente ho preso lui ha preso sapevo solo di dover difendere questa diagonale scura ma me la dà come errore vai a capire comunque viene qua io vengo qui blunder perché è un blunder questo questa partita diventa complicatissima qua la partita alfiere in d4 così alfiere in d4 torre per f3 donna per f5 eh sì sì si occupa poi la colonna questo alfiere diventa fortissimo sì prende io prendo lui prende vengo su con la torre viene giù questo è un blunder e questo è anche un blunder qui sono tutti i blunder queste mosse qua io non volevo che ci fosse il motore però togliamo il motore ah no ma si vede lo stesso è vero perché è troppo complesso cioè è una partita blitz abbiamo 30 secondi a testa signori io sono stato contento perché ho difeso una posizione inferiore al limite del perso e quindi contavo sul fatto che lui si scoraggiasse per non essere riuscito a capitalizzare sul vantaggio in apertura vado indietro cambia io prendo lui viene su ecco chiudo tutto questi due pedoni sono forti ma li fermo li fermo bene viene qui e io vengo qua difendo il pedone lui viene lì e io vengo qua e attacco i due pedoni così a scacco vengo su torna lì torre g4 era meglio eh va a capire attacco due volte viene giù difendo contraattacca e qua casca un pedone ah è qua è qua con 22 secondi non so probabilmente l'ho snervato ha perduto una torre così e poi adesso va bene insomma vengo su con la torre di vantaggio basta blocco tutto e adesso questione di andare dietro presa 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 pedone passato vabbè e ha abbandonato ecco questa è stata l'ultima partita ed è andata a finire il torneo con la classifica che vi ho mostrato cioè questa qui eccola con appunto un decoroso quarto posto con 4 punti e mezzo su 8 l'ultima partita è stata veramente sfinente perché abbiamo giocato penso un quarto d'ora abbondante contando che avevano 5 minuti ciascuno più recupero abbiamo fatto un mucchio di mosse considerazioni generali intanto gioco meglio su lices che non su chess.com non so per quale motivo fatemi sapere se anche voi succede la stessa cosa ma non so mi sembra che forse la grafica è più chiara non lo so poi evitare le aperture scandalose tipo la difesa San Giorgio in fondo io ho cioè il mio problema di base è la francese del cambio che mi fa schifo da giocare col nero però le altre varianti della francese di cambio vi faccio vedere al volo vediamo se vedete bene? sì allora francese di cambio per il nero allora E4 E6 D4 D5 presa francese di cambio in questi giorni ho considerato questa variante invece di riprendere di pedone come è ortodosso fare la presa di donna vedete la giocano carse nella camora va bene loro giocano tutto chi se ne frega non funziona non funziona non da niente non da proprio niente quindi bisogna rassegnarsi a fare questo normalmente qui c'è questo tipo di sviluppo ma lo sapete benissimo così così adesso gioco in modo stilizzato metto giusto i pezzi ecco questa è la posizione tipica poi così così eccetera eccetera ora c'è un'altra variante dopo la presa e per d così facciamo conto così così è la variante che gioca a gotham chess levy rossman questa diciamo diciamo che il bianco gioca normale inchiodatura cavallo alfiere non si sa dove metterlo facciamo così per dire così mettiamo caso adesso per per assurdo e così una francese con arrocco lungo da parte del nero quindi posizioni asimmetriche squilibra con tanto squilibrio voglio dire e raramente raramente finiscono patte il problema qual è è che il nero di solito sta peggio adesso io ho mosso un po' a casaccio quindi ecco vedete ecco più uno più eh sì il nero sta peggio perché perché sì perché arrivano i pedoni poi naturalmente è tutto da giocare però è molto precaria questa sistemazione qua di pezzi l'ho provata qualche volta ma a me non è che convinca tantissimo perciò bisogna rassegnarsi a giocare la variante di cambio proprio pura dura e pura quella che vi ho fatto vedere prima con gli alfieri fuori così i cavalli fuori la rocco corto c3 e c6 c6 e c3 i due cavalli che si guardano vela alfiere fuori eccetera è un'apertura pattaiola però c'è anche da dire che in fondo il nero alla mossa 3 ha pareggiato il gioco e quindi da nero va bene insomma bisogna essere attenti come dicevo prima va bene la teoria dell'apertura poi bisogna saper giocare a scacchi con pazienza è una posizione da difendere raramente si vince io purtroppo spesso la perdo perché pattisco il gioco così di fino poco dinamico lo soffro molto ecco però è anche un'occasione per in fondo se uno vuol giocare la francese a me giocare la francese mi piace molto bisogna rassegnarsi a imparare a giocare anche sta roba qua va bene buona vi ringrazio tanto se siete stati fino qui alla fine del video o anche se avete interrotto prima ringrazio tanto Carlo di Scacchi e Giochi strategisti che ha fatto questo bel torneo e lo ringrazio per le cose bellissime che fa sul suo canale vi invito a mettere like iscrivervi al canale e fate i bravi fate molto molto i bravi grazie